Stabilito che è un'amica e diventa amica in un secondo, per presentarla bene dovrei dire Vez Amore, perché una favolosa ragazza americana, molto brillante, molto intelligente, molto bella, arriva nel nostro paese, sceglie Napoli come prima città e si innamora talmente tanto di Napoli e talmente tanto di un napoletano e soprattutto fa innamorare sua suocera di lei, sua suocera che la adora, da diventare la moglie americana, Catherine Wilson, ben arrivata, ben arrivata cara, grazie, grazie di essere qui con noi, voglio mostrarli perché sono due libri meravigliosi, giustamente sulla versione inglese c'è scritto Only in Naples, perché certe cose possono accadere solo a Napoli, la moglie americana con un libro brillante, emozionante, una gioia per i sensi, scrive Lily Gruber. Allora Catherine, giornalista, attrice, gli ultimi impegni recitativi dove sono stati? Ho partecipato nel film The Two Popes, i due papi, quello con Anthony Hopkins e Jonathan Price che racconta la storia sia di Benedetto che di Francesco, nella parte di una giornalista americana e anche il film Tolotolo di Checco Zalone, quindi due generi molto diversi. Allora, la storia di Catherine Wilson è molto bella perché senza miele, senza zucchero, senza voler dipingere un'Italia più bella o un'Italia che possa farci piacere, no, è un racconto trasparente di un'Italia nella quale tu sei arrivata come e soprattutto perché ti sei fermata, per nostra fortuna. Perché? Allora, io sono venuta in Italia dopo l'università perché è un po' come Babinkins faceva parte del Grand Tour, c'era un'idea di un'americana che dopo l'università faceva un'esperienza all'estero, breve, doveva essere breve, e volevo andare in Italia per imparare un po' la lingua, vedere, e quando ho iniziato a dire, sto pensando di andare in Italia, tutti mi hanno detto, ah, l'Italia bellissima, è stupenda, va in Toscana, ci stanno tanti posti belli, però non andare a Napoli, cioè l'unico posto che forse non è il caso di andare è Napoli. E questa cosa mi ha sorpreso molto perché ho detto che cos'è di questa città che suscita, diciamo, un'emozione così forte e mi ha incuriosito molto. Allora, fermate per un istante, mettiamo un asterisco a questa curiosità, state vedendo il titolo sopra la mia testa? e anche la testa della nostra ospite, come Meghan, cioè noi abbiamo scritto come Meghan, io ho trovato il mio principe, perché è così, cioè due attrici americane che devono venire nel vecchio continente, diciamo così, adesso Brexit a parte, per trovare il principe, il principe vero, ma al contrario di Meghan, tu sei, io non riesco a vederti come americana, ti vedo come un'italiana che parla perfettamente l'americano. Grazie, grazie. Questa è la cosa meravigliosa. Questa è la cosa bella. Io penso, penso, e veramente mi fa tanto piacere perché chiaramente amo la cultura italiana, anche la lingua italiana, e penso che sono stata da un lato più fortunata di Meghan nella famiglia in cui ho capitato, perché è una famiglia reale, è una famiglia molto, che lei non ha la libertà, non ha l'indipendenza, non può fare certi protocolli. Quindi tu sei pro Meghan, credi che faccia bene, scusate, questa è una digressione, ma l'occasione è troppo ghiotta, faccia bene ad andare in Canada e a... ma da un lato ci poteva pensare prima, perché molti hanno detto, guarda, questo sarà la realtà, però è una cosa, secondo me, prima sentire queste cose, un'altra cosa, vivere come neomamma, con tuo figlio, è sempre una donna di, come si dice, mixed race, di due razze diverse, quindi secondo me per noi è difficile capire veramente che vuol dire crescere senza un vero senso di identità, chiaro, e questa cosa non l'ha aiutato, per cui io penso che lei ha bisogno di essere una persona libera e ha un marito che la sostiene, quello che non condivido, devo dire la verità, è di fare questa indipendenza, però essendo sempre economicamente dipendente e sostenuta. Va bene, questa è una parentesi, ma non potevo non far commentare ad una donna internazionale come Catherine Wilson anche questo, invece la risposta è un'altra, Meghan non ha trovato una suocera come donna Raffaella, perché la suocera della nostra ospite, Catherine, è una donna, forse si è innamorata prima di te, tua suocera, no, non possiamo dire di quanto non abbia fatto tuo marito, però insomma c'è stato quest'amore improvviso, torniamo indietro, ti dicono non andare a Napoli, Napoli è pericolosa, non è vero, niente di tutto questo, e quando arrivi a Napoli cosa succede? Ho trovato questa famiglia meravigliosa che mi ha iniziato a imboccare ragù strepitoso, a cogliermi proprio come una figlia, a farti mangiare seduta, a farmi mangiare seduta, a farmi mangiare regolare, perché come sai in America noi prendiamo un boccone qua, un boccone là, orari strani, invece lì era un rito, ma poi dei sapori che non avevo mai assaggiato, e secondo me è anche interessante perché a Napoli non si può innamorare di una persona, un individuo, si innamora di tutto un contesto, di una famiglia, come il favoloso immagine di Luciano De Crescenzio che dice che ci sono i panni che legano tutti i palazzi, e questo è un po' quello che è successo a me. Insomma, a te è successo, è successo di stupirti perché tuo marito, studente, oggi strepitoso avvocato, viveva ancora dalla mamma a 23 anni. Dicevo, da americana pensavo, ah il ragazzo ha qualche problema, adesso mi rendo conto che è una cosa bellissima, che fa parte comunque di un contesto, di una tribù, diciamo, però allora dicevo, ah questo ragazzo che sta qui, che vive a casa, che problemi ha, che problemi non ha, e poi avevo comunque tutti i stereotipi della suocera napoletana che ti prende, che ti invade, che fa, invece non è stato proprio così. È proprio stato un grande, è scattata una simpatia, una delizia tra voi, tra suocera e nuora, che emerge da questo libro ed emerge poi dalla vostra storia in maniera dirompente. È una cosa bella, molto bella. Grazie, mi fa molto piacere perché si parla tanto di suocere e nuore, che c'è conflitto, che c'è, e se ne parla tanto, infatti il libro in altri paesi non si può nominare la suocera nel titolo. Io dicevo, ma è il rapporto di una suocera e una nuora? Però già la parola suocera sembra così. Quando non c'erano le cinture di sicurezza, il posto accanto al guidatore veniva chiamato il posto della suocera. Voi pensate che modo orrendo di ghettizzare una persona che altre non è che la mamma del marito. Allora, che cosa vuol dire... No, dimmelo tu in napoletano. Sì, mi piace tantissimo questa espressione perché io... No, no, dimmi nel napoletano, dimmi nel napoletano. O porpo, sa da cuocere in te l'acqua a soglia. Ma io lavoro. Cosa te l'ha detto a me? Vesuvio alle spalle, Vesuvio, Vesuvio. Per chi ti ha detto questa frase? Allora, io e Salvatore eravamo fidanzati. Allora, in America, dopo un anno e mezzo, cose efficienti, uno inizia a dire, allora ci sposiamo, non ci sposiamo. Invece ero fidanzata con Salvatore da ben sette, otto anni. Eravamo... E vi eravate anche incontrati molto giovani. Sì, però io mi aspettavo lui in ginocchio con l'anello e quindi ogni volta che uscivamo aspettavo il momento e non succedeva. Aspettavo il momento e non succedeva. E quindi ho chiesto ai miei suoceri, ho detto, ma c'è qualche problema? Che succede? C'è il matrimonio? Pensavo in Italia? E il mio socio mi dice che il corpo si è andata con l'acqua sui. Che è un tradotto per chi ci segue fuori dall'area meravigliosa dell'Oro di Napoli. Che cosa voleva dire? Che vuol dire che quando cucini il polipo devi avere pazienza perché il polipo deve cacciare tutta la sua... Deve avere tempo. Se tu cerchi di alzare il fuoco, non succedeva. Quindi voleva dire che devi aspettare i tempi. Allora, i tempi arrivano, si sposano nel 2004, ma soprattutto arrivano Anthony e Raffaella, perché la mamma si chiama... La suocera si chiama Raffaella. Tu la chiami mamma? No. No, no. Perché io lo sento un po' come se sarebbe un po' un tradimento della mia madre. Sì. Ma la tua mamma è gelosa di questo rapporto di grande amore con tua sua mamma? Suocera? Forse all'inizio sì. Forse all'inizio c'era un po'... Poi c'è il fatto che ero lontana. Quindi adesso che sono mamma mi rendo conto che quando sto dall'altra parte del mondo è più difficile. Poi vi racconteremo di come si è diventata assolutamente mamma italiana. Segnatevi Anthony e Raffaella, metteteli da parte. Io dialogo sempre così con voi. Allora, Goethe scrisse, vedi Napoli e poi muori. E tu invece dici, io ho visto Napoli e ho ricominciato a vivere. Anzi ho incominciato a vivere. Sì, questo è. Ma questi due ragazzi che stanno qui nella fotografia, che ora se ne vogliono andare a studiare negli Stati Uniti. E sapete la cosa più divertente? La cosa la preoccupa fortemente perché dice ma no, ma vanno a studiare negli Stati Uniti ma è lontano. Ma come? Tu sei americana. Come? Sono diventata un po' mamma italiana senza saper fare il ragù, diciamo. No, non ci credo che tu non abbia imparato a fare il ragù. Mi rifiuto. No, un po' sì, un po' sì. Hai imparato. Allora, il tour ideale di Napoli, anche stabilito che tu oggi, poi spiegheremo, vivi a Roma, insomma, non è la tua carta d'identità che noi vogliamo seguire o il certificato di residenza. È capire quanto sia bella questa Italia, bella che tu sei stata capace e continui a raccontare. Quando si arriva a Napoli, per non fare i turisti, qual è la prima cosa che bisognerebbe andare a vedere? Per essere dei viaggiatori, per entrare nel cuore di Napoli come tu hai fatto? Ma secondo me è molto importante a Napoli prendere il ritmo e i tempi napoletani. Non andare lì con una lista dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare. Secondo me quando si arriva si deve fare il Cristo. Due posti che quando sono entrata mi è venuto proprio le lacrime agli occhi. Il Cristo velato e anche il tesoro di San Gennaro che è una cosa proprio che toglie il fiato. Dopodiché l'arte della sfogliatella perché ti devi fermare e prendere il caffè e la sfogliatella come si deve. Il tè per gli inglesi e il caffè per il napoletano. Il caffè per Napoli. Quindi tu hai dovuto, venendo dal caffè, nel bicchierone, il caffè americano, voglio dire, quello è il nome del vostro caffè, passare al caffè napoletano. Cioè hai fatto un salto di grande qualità. Di grande qualità. Con buona pace del caffè americano ma di grandissima qualità. Quindi prendere tempo. Il senso è proprio questo, vero? Di prendere tempo, fare il centro storico, vivendo anche il teatro di strada, perché in realtà Napoli è un palcoscenico aperto, c'è grande umanità. Per cui soprattutto per gli italiani che sono fortunati di capire un po', di prendere gli autobus, di camminare, di sentire, di chiedere indicazioni stradali. Io quando vado a Napoli spengo Waze, spengo tutto perché chiedere dove si trova questo. C'è un monologo teatrale che è la gente che si litiga per essere quello che dice ma non è così, ma no, no, tu vai diritto, poi fai questo. È bellissimo, è veramente... Allora voi immaginate che un giorno Catherine si sente poco bene a Napoli ed è sull'autobus, ed è una storia stupenda, perché è una storia di generosità. Cioè l'autobus ha deviato per portarti al pronto soccorso. Non è normale tutto ciò, ma è strepitosamente napoletano. È bellissimo, è bellissimo. E dopo... No, veramente... Poi in America sarebbe impensabile, chiaramente come molti posti del mondo, ma mi è stato riferito dopo che c'era proprio la lotta tra le persone di essere quella che mi accompagnava all'ospedale. Cioè non c'era nessuno che ha detto aspetta un attimo, io devo arrivare a quel posto come possibile. È stato deciso la signora che mi avrebbe accompagnato perché era quello che andava... Cioè è una cosa che veramente tu vedi questa enorme umanità dei napoletani. Da quanti anni sei la sposa americana in Italia? Sono venuta... Cioè da quando sei arrivata qui? 24 anni. State per fare le nozze d'argento, tu e l'Italia. Eh sì, sì. Più tempo qui che in America. Che non in America. La cosa, forse è difficile, ma la cosa più bella che tu abbia imparato da questa terra, te lo chiedo perché noi siamo spesso in crisi di non... così, non sappiamo riconoscere il buono del nostro paese. La cosa più bella che non è in cucina, è nel modo di vivere, qual è? Sì. Ma io direi sicuramente l'amore e l'umanità tra le persone perché è una cosa che voi italiani forse date un po' per scontato questo rapporto tra le persone che in altre parti del mondo non esiste. Però come filosofia di vita quello che a me è servito tantissimo è la lezione di sdramatizzare. Il fatto che per esempio Napoli, come l'Italia, ha avuto una storia lunga e complicata, fa crescere una filosofia di vita dove è necessario sdramatizzare nei momenti che non sono veramente tragici, per dire io quando iniziavo a piangere a Napoli pensavo di dover tornare in America e iniziavo a piangere e mia suocera invece di fare la cosa inglosassone di allora parliamo sì è una cosa... Uè uè, c'è proprio... mi ha dato uno schiaffetto! Uno schiaffetto! Chi ci aspetta? Ma che... però funziona, funziona perché è una cosa come mio marito quando i figli piangono, quando erano piccoli e piangevano io dicevo amore allora parla con mamma di che cosa? E lui faceva così, assaggiavano l'aria mamma ma non hai messo il sale quando stavi cucinando a questo cucciolotto fammi assaggiare un altro... e assaggiava veramente... Quindi il bambino si distraeva completamente dalle lacrime e stava poi tranquilla... Ah che bello! Come siamo bravi noi italiani! No, Catherine Wilson, grazie di essere stata con noi questa bellissima moglie americana che seguiremo a maggior ragione oltre che nel film di Keiko Zalone anche in questi due papi con due grandissimi attori e vedremo chi è stata così brava da fare le domande giuste nel momento delle varie conferenze stampa Catherine Wilson, notatela con attenzione Ci vediamo tra poco, tra un istante l'ora solare